Buongiorno belli, come state? Come promesso, sempre quando vado a Lidl vi faccio il video delle novità e soprattutto le novità del catalogo nuovo. Quindi vi faccio vedere tutti gli articoli che ci sono, che sono interessanti. Ci sono delle cose veramente molto interessanti con dei prezzi accessibili. Cali è partita, Cali, mami no. Spero che vi piace, se vi piace lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutte le novità. Seguitemi, 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 iscrivetevi se volete qualche video un po' particolare, differente. Domani vi pubblico il video della spesa, le cose che ho comprato a Lidl. Un bacione a tutti e buona visione. Grazie a tutti. 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 a tutti.